Buongiorno a tutti, vi faccio un giocattissimo colonna, allora ragazzi nel gioco di vista salutiamo il pubblico, ecco, un ritro superato, ci vediamo a cantare, ascoltatevi che faccio un po' di più che mi sono, che mi fanno pop, adesso sentiamo, intanto fidano le ragazze e un applauso anche agli insegnanti, le scrittrici, Valentina, Ebe, complimenti e anche Barbara, come c'è, vi portate un saluto, grazie ragazzi, ciao, alla prossima volta, Valentina, intanto grazie a tutti